Un uomo visibilmente ubriaco urina in piazza Massari. La cosa non passa inosservato e sul posto interviene la polizia locale. Camminavo con la bottiglia del prosecco nella tasca del cappotto. Oggi adesso parrà la presa. Sì, e ora sono venuti i vigili e dice che camminavo con il pescello da fuoco. A sentire alcuni tassisti pari che il soggetto non avesse pagato almeno tre corse e probabilmente anche alcune consumazioni. Lo sconosciuto è fatto accomodare nell'auto di servizio in attesa del 118 che lo trasporterà in ospedale. Non è trasandato, seppure presenti qualche escoriazione sul viso. Dopo qualche ricerca spunta un tesserino di riconoscimento tra lo stupore generale. Siete riusciti a identificarlo? Sì, sì, siamo riusciti. Anzi, addirittura abbiamo anche accertato che è un dipendente del Parlamento europeo.